Io sono Alan Franco Licauli e ho davvero il piacere di dare il benvenuto e l'avvio a questo incontro. L'anno scorso quando abbiamo avviato la programmazione della stagione abbiamo pensato di dedicare appunto un mese e mezzo a un tema importante che è il tema della legalità e quindi abbiamo deciso di avviare un osservatorio permanente sulla legalità. Un progetto che stiamo realizzando insieme all'Università degli Studi di Milano in collaborazione anche con la Fondazione Corriere della Sera. È una rassegna composta da nove spettacoli, otto incontri che vogliono riflettere con sguardi diversi su quello che è proprio questo tema. Sono appunto sul palco assieme a tre giornalisti teatrali anche loro a loro volta perché lavorano assolutamente sul palco con materia viva, con carne umana, vera e propria, ovvero i loro spettacoli per il lavoro appunto condotto sul campo da sempre, parlano di realtà, quindi una realtà in scena. È anche un po' il titolo infatti di questo incontro, cioè quando giornalismo e teatro si uniscono è la verità che va in scena. Non sono finzioni, non sono brillantini, non sono piume, non è intrattenimento, ma si parla di quotidianità tutti i giorni, di quello che viviamo davvero sulla nostra pelle e non si tratta di operazioni di cosmesi teatrale perché, come poi ci diranno loro stessi, gli attori e i testi che vengono dati sul palco, nelle loro rappresentazioni, sono agiti da persone in carne e ossa vere, quindi gli attori esistono ma sono anche ovviamente mescolati a quello che sono proprio gli interpreti della realtà. Io mi sono relazionato con gli operai della Falc, della Marelli e via e via e via e non posso non ricordare che il vero regista di questa iniziativa fu Giuseppe Granelli, operaio della Falc, scomparso sei mesi fa, che è stato lui a creare il copione di questa avventura. Chiaro, preciso e via. Vado. Abbiamo fatto molte iniziative per gli anziani, ancora una volta in questa sede, non posso non ricordare che il Teatro Officina ha avuto la fortuna di conoscere, di vivere insieme per vent'anni con Antonio Bozzetti. Antonio Bozzetti è stato un quinta storie milanese di qualità umana e professionale incredibile che raccontava delle storie non solo degli anziani, dei quartieri e via dicendo. A lui la sua voce, la sua voce che tra l'altro è in un piccolo DVD di qualità enorme, è stato un punto di riferimento fondamentale, è lui che parla, è lui che si esprime. Ultimamente, da 4-5 anni, ha avuto un rapporto con l'Oieo e con, l'Oieo lo sapete, va bene, di Veronesi, ma in modo particolare con il professor Bruno Andreoni, che ci ha messo in relazione con operatori sanitari, infermiere, badanti, per tutte le narrazioni che vengono dal rapporto, dal rapporto con i degenti, spesso degenti in fin di vita, tanto per essere... E quindi noi abbiamo un repertorio, a proposito, quando dici il teatro, da dove pesca, di narrazioni, di narrazioni che vengono da queste umanità. C'è un'arte che si trova spesso in luoghi strani, isolati, fuori via, dice Testore. Un'arte che delle volte tu non puoi nemmeno chiamare arte perché è povera, perché è troppo povera o perché parla troppo di poveri. Arte che però nasce in un luogo e che di quel luogo diventa lingua e parlata. Di Testori bilancia immediatamente la questione, ci dice una cosa precisa. Ci dice che c'è un'arte riconosciuta e che in qualche maniera aspira a essere letta come l'unica arte possibile. Molti di voi sanno che Testori si occupava tanto di arte e insomma fino a 40 anni fa parlare di arte, di arte antica in Italia, voleva dire far riferimento alla famosa triade. Roma, Venezia, Firenze. Non esisteva niente altro. Testori scopre altre arti, le scopre a Lombardia, moltissimo, le scopre a Varallo, le scopre al Sacromonte e ridà in qualche maniera a quell'arte il senso di una grande proposta estetica. Che cosa dice? A un certo punto Elia Varallo sta guardando delle statue di Gaudenzio Ferrari e pensa, chiede direttamente al pubblico, avete presente quello che è stato celebrato nella storia dell'arte come il massimo della bellezza, della perfezione? Avete presente i greci? Sì. Avete presente Piero della Francesca? Sì. Personalmente sono andato ad Arezzo per vederlo. Raffaello dice, bene, anche confrontate con quei modelli, queste statue povere non sono di marmo, sono di terracotta, di Gaudenzio Ferrari, tengono, la loro bellezza tiene perché quei visi, dice Testori, esprimono l'assoluto di un'altra verità, la verità di un'esistenza umile legata alla terra, la Valsesia, la verità di persone che sanno che in quella valle dovranno giocarsi tutto e trovarsi tutto fin anche i propri dei della bellezza. Allora, in una valle uno si cerca fin anche i propri dei della bellezza. Capite che qua c'è uno sbilanciamento completo rispetto alle categorie tradizionali, professionismo, dilettantismo, arte centrale, arte locale, arte che nasce nella mente dei grandi intellettuali, arte che nasce nei luoghi. Testori dice che sono bellezze differenti e che tutte si muovono allo stesso livello di dignità. Perché in qualche modo uno va a incontrare le cose? Semplicemente per scoprire qualcosa che si chiama una vocazione teatrale dell'oggi, che magari sbagliando, magari con un'estremizzazione, uno riconosce in queste forme, in queste forme di rottura di quello che tu vivi come arte consolidata e riconosciuta. Non in contrapposizione, perché qua non siamo alla contrapposizione, né del teatro sociale al teatro ufficiale, né del teatro povero né dal teatro ricco. Siamo nel campo dell'utopia e della visione artistica, che è un'altra cosa. Utopia e visione artistica che oggi non può essere, che è utopia e visione di città. Vi leggo una dedica che ci ha fatto Peter Brook per lo spettacolo che abbiamo portato in scena al piccolo. Dice «Le pressioni della vita oggi creano una società senza libertà. Nelle condizioni dure delle carceri, però, c'è una possibilità da cogliere. C'è il tempo e lo spazio per le arti e il teatro e la cultura per animare e nutrire lo spirito. Su tutto, la profonda comprensione delle contraddizioni, dell'umanità, dell'opera di William Shakespeare, che va oltre tutte le barriere». Ecco, secondo me queste parole sono una dedica importante per noi, è una dedica importante per tutte le persone che fanno teatro, negli spazi dove il tempo è sospeso, dove finalmente si può anche lasciare un cellulare all'ingresso, fare un laboratorio di teatro per ore, dimenticarsi di un fuori che a volte è più duro di un dentro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.